Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio qui con il vostro materiale serie questo è Gesù P4 Nello scorso episodio che cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato questa cosa bellissima ovvero le sfide del maestro saggio Nello scorso episodio inoltre ci siamo fermati con la presa della cipolla bianca Che vi faccio subito vedere perché poi se vi ricordate non abbiamo effettivamente presa completamente E adesso invece l'abbiamo presa vi faccio anche un pochettino vedere che avevamo un 120 e 10 piquin tutti quanti rocciosi E come potete vedere vabbè c'erano anche qualche piquin all'altro e come potete ben notare in pochi secondi siamo riusciti comunque a portarci a casa la cipolla bianca E ci ha fatto anche un bel regalo ti conferisco un veloce o ieri alla cipolla bianca Quindi tecnicamente adesso se dovremmo fare fine sfida e dovremmo uscire completamente da maestro saggio è probabile che ci siano delle animazioni particolari Vi svelo subito l'arcano e andiamo un pochettino Ehm non andarte non dimenticare questo gioiello Ah qui non ce l'abbiamo ancora dobbiamo prima finire tutte le cave però vediamo un pochettino può darsi anche che mi sbaglio eh Letto questo mi raccomando ragazzi di lasciare già like e descrizione e campanella Quando mettere per il supporto e vediamo un pochettino soprattutto se siamo a buon punto nel gioco E si era la prima volta che vedo si era Oh ma guardate un po' ma guardate un po' bello bello Assolutamente si Ehm ieri un oggi sto facendo i capricci non ho capito perché però sto facendo i capricci Bella Bella Vabbè la foto l'ho già fatta quindi tecnicamente non mi dovrebbe servire però bella Ehm tra di buo e bici va bene dai Tutto sommato si può migliorare perché bisogna migliorare per forza dobbiamo fare tutto platino Ehm quindi Sì Ehm dobbiamo fare ancora un bel po' di cose Già Che poi l'unica cosa che ci rimane da fare quindi tecnicamente adesso registrando Lo faccio il giorno 60 O se ne dire Quindi finisco quello e poi dopo finisco tutto quanto le cave eccetera Va bene va bene Ehm Che sito? Una funzione di dashboard Questa la sapeva Ma Ma questo lo sapeva pure Neanche ci ha visa Che sono mangiate che esisteva un altro tipo storia No vabbè Dopo questa pure No questo non me lo aspettavo proprio Vabbè dai Le cave però non ci ha detto niente Ehm provo il foglio di nosaggio Andiamo velocemente avanti Ehm ci sono 4 minuti Mamma mia E' così breve E' davvero così breve Ehm E dovremmo riuscire comunque a fare tutto oggi Quindi tecnicamente Non ci dovremmo preoccupare di niente Di nessuno Ci sono già 3 minuti di gestazione Ci sta davvero tanto Dai Ehm Dovrebbe andare piuttosto bene Forte automatico Se è questo automatico Livello 4 sul 5 Di tandori in 4 minuti Posso dire Non credo che sia molto da fare Non è che lo devo ripetere 100 migliaia di volte No assolutamente no Mica Di nuovo qui? Eh sì Mi dobbiamo finire Finiamo Guarda foglio di nosaggio Mappa Cosa che non avevo fatto Lo scorso episodio Alla porta è aperta 0 su 5 Guarda dobbiamo vedere un pochettino Come fare Questa è una porta da aprire Questa è una porta da aprire Non si può fare Ciò significa che si passa Prima di tutto da qui Si va A destra E via Si sconfiggono I vari nemici che stanno Intanto all'asso del foglionino Si prendono tesori Si sconfiggono Prova di foglioni che stanno Andiamo avanti Saltiamo 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 Arriviamo qui Distruggiamo tutto Quindi dovremmo avere piccoli di ghiaccio O qualcosa del genere Andiamo di qua Via Vum No questa è soltanto andata Ho sbagliato Ehm A meno che non attiviamo Ventilatura Lo portiamo di qua Lo portiamo di qua E basta Oppure si attiva questo Probabile Probabile pure Vediamo un pochettino Come si comporta Altrimenti dovremmo attivare Questo ventilatore E vediamo Dai 3 2 1 Via Ok Allora abbiamo Pikmin rosse Quindi non abbiamo neanche Pikmin chissà che cose Ehm Allora guarda lonti intorno Lo stavo già facendo Con il drone sorvegliante Ehm Non vedo molte cose da fare Ti devo essere sincero Non vedo molte cose da fare Ok Già la prima cosa Abbiamo fatto Ehm Che già è buono Ok Quindi qua non può andare Occhin Ehm Cosa molto particolare Però Ci accontenteremo Ehm Quindi in pratica Dovremmo Far svanire l'effetto Ehm L'interruttore Come fare Allora qua Occhin Non può andare Qua Occhin Qua può andare Ok Qua non può andare Qua non può andare Ok Ok Quindi sono andato qua E si sa Che questo è il primo Perché C'è la freccia Quindi tecnicamente Dovremmo andare qualcosa Ok Vediamo se funziona Perfetto Ed è il primo per forza Ed è il primo per forza Allora Vediamo un pochettino Ehm Sì grazie Se volete venire Ah ok Qua ci sono tre nemici Affrontiamo i tre nemici A sto punto Visto che stiamo Allora affrontiamo Allora Facciamo così In questa maniera 3 2 1 1 1 2 3 4 5 Via Ehm Oh no Qua è leggero Ehm Fa niente dai Sto sommato Dovremmo riuscire a farcela Ok Dai 3 2 1 All'attacco Ok Penso a chi affidare i vari compiti Perfetto 5 su 5 E ce l'abbiamo Ehm Quindi Io erano tre Già significa che uno sta qui Perfetto L'abbiamo azzeccato perfettamente Ok Ok 3 2 1 Andiamo a attacco Perfetto Hoci e salvo 3 2 1 Ehm Se vola Se vola Ok Recuperate il tesore Certo certo Assolutamente si Ok Dai veloce all'ambiente Prighetta Ok perfetto E via Tanto non ci sarebbe arrivato il mio alamo di occhi Ok 3 2 1 E Via Oh c'è una roccia Buona Olli 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 Oh no L'abbiamo persi tutti Ops Si rifà Yeeeh Ricomincia dal capo la sfida 4 su 5 di Tandore Già perdiamo Un primo colpo Yeeeh Vabbè Taglio semmai in post produzione Non voglio tagliare adesso Ok ragazzi Quindi dovrebbe essere andato adesso 3 2 1 E via Perché siamo andati là Ma io non sono manca andato là E' diverso il fatto Vabbè Vai Eeeh E' la stessa cosa di prima Vabbè Il minamento Guardate raga Il minamento Ok muri Perfetto E' lo portiamo No Non serve a niente Già il fatto che ci siamo incantati Già avevo perso tempo Eeeh Via questo Ok perfetto Eh L'ha stato sfruttato Lì ero cambiato Si vede perfetto Quindi adesso dobbiamo tornare indietro Mi vuol dire Giusto Sicuramente Perché ho questa L'ha stata sensazione Ok Vai Vai no 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 Allora vai avanti Stiamo facendo Ok Vai Vai Perfetto E' andato Via 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 Ok hanno cambiato E' andato adesso Giusto Si Praticamente si Dovrebbe essere andato Ok La porta si è aperta L'altra porta Si è aperta Giusto si E l'abbiamo fatto Ok GG Perfetto Eeeh Ora Buono Buono Non sapevo neanche la strada Quindi ci sta Basta rifarlo E otteniamo il platino Perché io quello Devo ambire per forza Vi devo dire Livello 4 Sul 5 di Dandori Ci sta Ci sta la grande L'abbiamo fatto bene Abbiamo perso un po' di tempo Perché siamo caduti E abbiamo perso il tempo All'animale Però fa niente Continuiamo Non credo che Le parole del maestro saggio Ci possano essere d'aiuto Fida 7 Orto della caduta Quindi ci sono tanti Pikmin Bisogna cadere In che senso Ok Va bene Eeeh Vai Eeeh Iniziamo con l'allenamento Va bene Eeeh Comprensibile Dai Comprensibile in tutto Eeeh A sto punto Mi noto anche io A farlo Eeeh No Non mi sa che muoiono I pikmin di ora Ah è vero I pikmin di ora Possono morire Giusto 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 Eeeh Vabbè Finiamo Il più velocemente possibile Eeeh Vai 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 Ma che cosa fate Ma che cosa fate Non sto a scherzare Eeeh Vai 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 Perfetto Dai Dai Veloce Dai Veloce 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 Che qua se ne mangiano tutti 99 93 Eeeh Eeeh Via Manda questo Uno Dai 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 Veloce 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 Dai Dai Veloce Via No Non ce l'abbiamo fatta Goccia Che razza di biliccioco No vabbè Non si può vedere Non si può vedere Anche si rifà Ricamifici Questo è bellissimo Questo lo faccio un cut Cioè è un minuto in pratica Dura giusto Sì un minuto Vai 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 Eeeh Non ci lo mandiamo Dappertutto Cioè in pratica Quello faremo No che cosa fa lui Che cosa fa lui Che cosa fa lui E' pazzo E' pazzo E' pazzo E' pazzo E' pazzo Ok Vai Vai Veloce E' veloce Che buono Ok sono un piccolino E' quello là Ok perfetto E se ne sono pure mangiati Buono Davvero molto buono Vai col pugno Ti presta Vai col pugno Ti presta Dai Dai Accendi Veloce 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 Attacca tutto Attacca tutto Dai Dai che siamo onorari Dai che siamo onorari Dai che siamo onorari Dai che siamo onorari Dai 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 Ok 96 97 98 99 98 Che sta all'altro E' la finta E' la finta Ci sono pure passato No vabbè regà No vabbè Bellissimo Vabbè Vabbè bellissimo Cioè per uno Ogni volta lanciamo Del shed E forse i piccimi Ve lo le devo Mettere più strategicamente Vedi Ci sono loro Ci sono loro Le postazioni Vabbè Non fammi pensare All'assembramento Perché Come stanno andando le cose Sembrano che vogliono fare altro O l'assembramento Però Ok Cioè Vedete che facciamo una strage Non servono neanche Questi piccimi Viola Stiamo soltanto per distrarre Ok I piccimi Viola servono Praticamente A metterlo al centro Ok Abbiamo fatto tutto Questa Ok Adesso facciamo Tutto quanto Qui Ok Veloce Veloce Ok E c'è quest'altro Ok No 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 Vai via Via veloce Ok E ci sono questi altri qua Ok perfetto Ci sono questi altri qua E quindi facciamo Ci sono Questi altri qua E facciamo Ok Adesso Occi va Cioè Occi praticamente Va dove può andare Ok E vai Attacco Vai 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 veloce Veloce Che ci abbiamo fatto Ok No 98 97 96 95 Via Ok GG Oh È difficilissimo È difficile È una cosa È difficile Che abbiamo mai visto È un minuto Ti mette un sacco Di stress E comunque 4 minuti L'abbiamo fatto Perché 4 volte L'ho fatto Mamma mia Che schifo È stato Troppo facile Per te Va bene Grazie Grazie Se lo dici Tu Cioè Io posso stare Più che tranquillo Se le dire Quanti stiamo 16 Che poi Dal prossimo episodio Io in pratica Vi devo far vedere Che ho Placchinato Tutto Cioè Non per dire Ma è assai Non per dire Ma è assai Vabbè Il resto Puoi portarlo Ok Tu Puoi fare lo scatto Qui Buono Buono Ok Dai Vedete Stiamo andando Piuttosto bene Qui ci saranno I pick in viola Qua Vabbè A sto punto Guardo la mappa Due tesori qua Un tesoro qua Alla fine Qua stanno Pick in bianchi E qua Presumo Che siano altri Pick in Va bene Però non si può andare Qua perché è tutto Venenoso Vediamo un po' Se riusciamo A fare un po' Di cosa Ok Dai Vai veloce Dove veloce Ok Buonissimo 3 2 1 Trick Trick super mega ultra Galattico Buono Buonissimo Ok Pick in bianchi Non servono a niente Per il quante Allora Uno Via qua Uno Via qua Uno Via qua Ok Ah no Serve hoci Scusate L'avevo visto Uno Via qua Ok Ok No Non andare Non andare Tu farò andare Alla doccia Ok perfetto Uno serve Che viene Spintonato Da qui No E da altra Quarta ovviamente Sembra giusto Sembra giustissimo Via Vai Vai là No Dai Visto che siete Arrivati al massimo Perché Vanno tutti là Ah Via posso entrarci Buono Vai Veloce 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 Ok Visto che uno sta qua Dai 50 Oh mamma 50 è possibile A sto punto è meglio Cogliere In che senso Cogliere bro Bro in che senso Cogliere Saltiamo su Occi Scusate Però Io ho detto Ok Ah sono questi Ecco qua Ah andiamo più a cogliere Adesso Mi serve più Ormai è passato il tempo Allora Facciamo in questa maniera Facciamo Uno Due Tre Ehm Questa è impossibile Che vengano fatte Un Due Ok perfetto Dobbiamo chiamare Occi In pratica Si Per chiare Occi Vabbè Facciamo in questa maniera Via Ok Se puoi Occi Venire No 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 Senti Vieni da qua Direttamente Facciamo prima Ok Non serve male come idea 3 2 1 Via Ok Perfetto Via Perfetto Ok dai Ehm Vai Dai Develo c'è No No Oh Non sto io Che senso Dai Anni tutti quanti qua Ok Probabile che possano fare qualcosa Anche senza Occi E' molto probabile Sta cosa C'è una base Qui comunque Non per dire Ma c'è una base Presumo No Ci sono pepita Basta pepita Basta pepita Ok Dai Ok via Veloce Ok Allora 10 l'attacco Ehm Uno per i tesori Ehm I tesori Stanno Dove stanno I gocci Dove stanno i tesori Ehm Eh se venivano tutti qua Il picco in viola Non era male No c'è Non era male Come cosa Non era per Niente male Dai Dai Veloci Vieni 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 Dai Dovevo attivare L'altro alarm Mentre più grezza C'è Occi Non sto Senza far niente Buonissimo Buono 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 Allora Semmai Lo attiviamo qua E oggi Aspetta è qua E mi servono Un botto Di pikmin Viola Dai Vai Veloce Dai Veloce Dai Veloce Dai Veloce Uffa Holly Holly up Holly down Oh Basta Dai Non andate a sballare i piani No Non mi dire che mo lo devo rifare Mo lo devo rifare Sì Verò Sì Assolutamente Sì Ma Ok Che sono sbagliato Dovevo fare per ultime le cose con i pikmin Viola Non lo so Presumbo di sì Presumbo davvero di sì Cioè Ah però Soltanto due rimangono Soltanto due stanno Quello da fastidio Tesori recuperati 58 su 100 Cioè Implicamente sono tutte pepite Sì Quindi Si possono fare tutte con hocini Tesori Quello vuole dire il gioco Oh mamma mia Vabbè Facciamo un breve taglio Arrivo subito E ragazzi Giocando leggermente D'astuzia Siamo riusciti Finalmente A fare anche questo 3 2 1 E Siamo arrivati A destinazione 10 secondi Di vantaggio Niente male davvero Niente male davvero È stato Piuttosto bello Ho sfruttato molto L'alimenti preghizia Perché ho mandato tutto quanto Da fare hocini Tranne Due cosette La busta non l'ho tolta Ad esempio Cosa che forse si potrebbe fare Ad esempio Appena otteniamo i pikmin viola Subito Facciamo la busta E subito dopo Facciamo anche le altre cose Vabbè Si può fare Si può fare Si può fare Vabbè Facciamo un'altra Continua E andiamo avanti Zolla Selettiva Vediamo un pochettino Che cos'è Sconfiggi tutte le creature Oh no Già vedo delle brutte creature Oh mamma E Ciao Ciao Come va Tutto quanto molto bene Saluta un po' Ne ricordatelo sempre Ok Via Ok 3 2 1 Buono Stanno anche Degli altre cose Vai 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 Buonissimo 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 Ok Ok Perfetto Adesso siamo nel cilio davvero Oh mamma no Quello no Perché è quello Perché è quello là No vero A questo punto facciamo insieme Oh buono Bella Bello skip Ok 3 2 1 E Boom E comprensibile Che ci abbiano dato anche questi Perché sicuramente C'è un bel boss Oh no Ho capito Che boss è Vai Quando vuole Vai 1 2 3 E Il papa Non è re Ok Vai Veloce All'attacco Veloce L'attacco Veloce L'attacco Veloce L'attacco Ok 2 2 3 Via Vai Per avere successo nel dandore Muoviti Per avere successo nel dandore Vai Vai veloce Vai veloce Veloce Oh mamma Oh Maia Perfetto Vai Esci 3 Esci 3 Esci 3 Veloce Ok 1 3 2 1 Via Ok Su un altro Vai 3 2 1 Via Ok Dai che L'abbiamo finita Dai Veloce 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 Di nuovo Li odio Li odio A morte Ok Basta Ritorno Di nuovo Ok Vai Veloce Ok Muo ritorno Di nuovo No Ah è vero Muo non ritorna Perché lo fa posto Vai Dai Dai Veloce Dai Veloce No Non se lo mangia Non se lo mangia Non ti preoccupare Se lo mangia Non ti preoccupare Oh mamma Vai Vai L'attacco Occi Ah Ah Sono io Ha mangiato me Vabbè Ma niente Tua sorella Ho sbagliato Che pessimo Dandori Pesimo a che fede Arrivano i compiti Dai Ok muo Via Veloce Ok ce ne andiamo Qua non serve a niente Quindi saremo Assoluto Per ostacolare Sti Tipi Perché non sanno A fare niente Praticamente Dalla macchina Alla sera Ok Muo di vel Perfetto Ok vieni 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 Attacco Ok buono L'abbiamo sfumato L'abbiamo sfumato Perché è Non abbastanza male Dai Dai Ose ridire Ose ridire Qua non sta muorendo nessuno Ose ridire Che qua non sta muorendo nessuno Perché andate dietro Perché gli andate dietro Perché andate dietro Cioè da dietro andate Morite Picchino Non si fa niente Non sta muorendo i picchiglioni In che senso bro Che senso In che senso bro Vai 3, 2, 1 No Dovevo andare all'attacco Dai Dai Che veloce Ma però Ma però Ma però Ehm Chissà Oh no Sta al centro Sta al centro Oh no Non adesso Va bene Ricordi quando ero già Mi fa molto piacere 3, 2, 1 Via Si inizia l'attacco 3, 2, 1 Via Dai Non devo uscire la sua bocca Non devo uscire la sua bocca E' così lurida la sua bocca Dai Attacca Bravissimo L'attacco Con la lingua Significa che adesso Prende pausa Ok No è vero Poteva Apri quello Giusto Non me ne sono scodato Ehm So accedere il passo Certo certo Avevo finito 3, 2, 1 E Vai 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 l'attacco Vai l'attacco Ok abbiamo finito GG Oh buono Argento Argento Mi piace l'argento Argento si Mi sono appena alzato da dormire Quindi non mi chiedete perché Ma Giù poveriggio mi sono Leggiormente messo a dormire Ah però Ancora l'invita La scuola Buono Buono E' stato bene E' stato piuttosto bene Io devo finire i pikmin Non me ne importa Devo finire i pikmin oggi Può venire anche di 50 minuti Il video Devo finire i pikmin Punto Basta Che bevi ora Oh no Perché odio ste cose No non mi chiede che Guarda prima O mettere tutto Se Prendi il gioiello Viola però Eeeh Allora E allora Abbiamo la cipolla viola Finalmente GG Però Non abbiamo Occi Dov'è Occi Ah Occi sta là Ehi salve Oh mamma Oh mamma Mi ho trovato Occi Sta qui Oh mamma Ho sbagliato Ah però Stanno lì Sono lì Così Oh mamma Mamma mia Non puoi entrare Non puoi entrare Non puoi entrare Sono più che sicuro Che non puoi entrare Non puoi entrare Non puoi entrare Mannaccia Non puoi entrare Ok ragazzi Quindi Ce la facciamo Ce la facciamo Nessuno di sì Uno Via Non è No Uomo corrullo Si può pure prendere Il piccolo viola Sappiatelo Si può pure prendere Volendo Non ci metto a stare A prenderli Ok Eeeh Vai veloce No 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 Bisogna andare sopra Sopra di lui Sopra di lui Sopra di lui L'attacco Sopra di lui L'attacco Vai Ma voi che state a fare In pratica adesso Niente Ok Allora potevate venire Come ad aiutarmi Eeeh Vai Andai veloce Andai veloce Eeeh Perché state andando lì Da tutte le parti Si state andando tipo in cui lì Ok Dai Dai veloce Dai veloce No Non è Non è Dobbiamo andare per onde gravitazionali Dobbiamo andare per onde gravitazionali No Non è No 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 Non ti puoi muore Non ti puoi muore Non puoi scappare Non puoi scappare Non puoi fuggire Non puoi fuggire Mannaccia Oh manaccia Che fastidio Eeeh 3 2 1 Eeeh Via Ok All'attacco Vai veloce Andate andate 3 2 1 All'attacco Oh mamma Oh mamma Qua ci siamo fino a mezzanotte Oh no Vai 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 No veloce Perché Perché voglio andare lì Perché voglio andare lì Oh mamma Oh si fermerà Si fermerà E fin quando non si fermerà Si fermerà Ok 3 2 1 Via Ok Ok Vi l'attacco Dai 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 veloce Dai veloce Vai No dai Dai veloce Ok dai Veloce 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 e morto E morto E estremamente morto Ok Via 3 2 1 All'attacco Oh lì Perché Perché Oh oh Muoviti a morire Mannaccia Mi ha fatto perdere 10 anni di vita Ok 100 Ce ne voglio 100 Per togliere tutta sta parete Alla faccia Allora Qua ce ne voglio ne provo 50 E mo dobbiamo ritrovare Il metodo comunque Per uscire da questa tana Quindi significa che Lo farò dopo mangiato Ciò significa che Faccio un breve taglio E ragazzi Quindi Rieccoci Ben ritrovati E Come potete aver visto Comunque ho fatto un breve taglio Perché purtroppo Dovevo farlo E Abbiamo sbloccato la cipolla Ha fatto anche Il Cioè Quello lì E Sì Devo sistemare un attimo Il microfono Perché per l'appunto È un po' così E Via Iniziamo subito Allora Per quanto riguarda Il tutto Qua ce ne voglio 100 Qua si può passare E quindi passiamo Come Ricordiamo Comunque abbiamo sconfitto Già Il Uomo Roccia Quindi Uomo Roccia Uomo Corrullo Come lo vuoi chiamare Voi lo chiamate E adesso Dobbiamo iniziare Avevo già perso Un pochettino di Pikmin Giusto Pochini Non tanti Sì Però Quei piccoli Che comunque Ci potevano aiutare A far qualcosina E Diciamo Che Sì L'abbiamo fatto Vabbè Capita Perché purtroppo Uomo Corrullo E una medusa Che potete vedere Che non c'è più Perché effettivamente È tutta un'altra clip Diciamo È stata fatta Quindi Voi vedete adesso Il continuo Ipotetico Della clip precedente Io ho dovuto fare Comunque dei tagli Super mega ultra Perché questa cosa Perché ovviamente Io dovevo andare No a mangiare Ma dovevo andare A fare Uffa 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 Ok Dovevo andare Per l'appunto Nel fare Tutte le quante Le cose Al 100% Facendo Lo scavo dei mucchietti Sto completato Perfetto Cioè non abbiamo Praticamente tempo O non devo Configgere questi due nemici Io non ho capito Che cos'è che devo fare Precisamente Cioè ancora Lo devo capire Però per il resto Niente di che Ok sì Devo in pratica Sconfiggere questi E basta Sì Cioè per il resto Devo fare tutte le aree Sì in pratica sì Ok va bene Quindi prendi il gioiello viola Lo dobbiamo rifare Ora vi faccio vedere Anche un pochettino Forse alcune cose Che non avete visto O avete comunque Intravisto All'interno Della clip Che Vi ho praticamente fatto Ok Pensa a ciò che è necessario Fare adesso Ok Quindi È necessario Prima di tutto Fare questo Ovvero Trasformare questi Pikmin qua In Pikmin Particolari A prima di tutto Dovremmo fare Questa idrogelatina Questa idrogelatina È importante Perché Al contrario di quello Che abbiamo mostrato Qua ci sono Pikmin Viola Quindi sono Abbastante Importanti Adesso Dobbiamo mettere Pikmin Gelati Qui Ok Per l'appunto Ci danno qualcosa E poi abbiamo E poi abbiamo Anche Pikmin Per l'appunto Viola Che con il trick Che vi ho insegnato Già Lo potete trovare In qualche altro Video precedente E mi ho già fatto Questa cosa Quindi non vi dovete Preoccupare di nulla Un uomo Corullo La cosa molto bella Che ho appena notato Che Gli uomini di Corullo Possono essere Comunque congelati Quindi appena Si può Fare Si fa Ok Questo è molto importante Perché Prima lo conoscevo Precisamente Quindi è abbastanza buono Da sapere come cosa Ok Come potete vedere Cioè Sta scendendo Drasticamente La sua vita Adesso Prima no Diciamo che prima Era abbastanza complessa Come cosa da fare Diciamo che prima Era leggermente più complessa Ok Dai Ok Vedete che con 8 Pikmin Viola Si può fare qualcosa Ok E adesso Ho trovato anche La facilità Per aggredirlo 3 2 1 Via Ok Cioè possiamo addirittura Congelarlo Raga Cioè possiamo addirittura Congelarlo Però è abbastanza complicato Da congelarlo Perché Perché si muove assai E quindi non si può fare Molto bene Però È provabile Che si possa fare Sì Se magari Si sta fermo E Diciamo Accetta il giro Come arma A doppio taglio In questo caso Si può fare Ok No Dai Dai veloce 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 Dai Congela 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 Ok Non è dura Di sonnare Dai No No Per poco Dai 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 veloce Dai veloce Dai veloce Dai Dai Si è letteralmente congelato Dai Veloce Ok è morto Adesso dobbiamo fare questo L'abbiamo detto Allora No Mettiti bene Mettiti bene Oh mamma Oh mamma mia Mettiti bene Ok 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 perfetto 60 E ce l'abbiamo Via Adesso Il sacchetto è steso schiacciato Mi fa molto piacere sta cosa E adesso 3 2 1 Via Ok Perfetto Allora Io sono il primo a scavare Però fin quando lo potete fare voi Scaviamo anche noi Ok A quanto pare Visto che stiamo Stiamo E stiamo Allora Stiamoci qua Ok perfetto Cambiamo il zona E andiamo direttamente dall'altra parte Io già vedo qualcosa che effettivamente si può fare Quindi perché non farla Il problema è che abbiamo Ok abbiamo 108 in viola Diciamo Ti esportano con molta cura Sì sì Lo so Lo so abbastanza bene Ok Visto che stiamo Facciamo Allora abbiamo una roccia a bomba Abbiamo detto Giusto Sì E abbiamo un muro Anche mezzo usato Quindi effettivamente la roccia a bomba Va messa qua Ho sbaglio Ok Non credo proprio che sbaglio Ok andiamo subito avanti E facciamo presto 3 2 1 Via Ok 3 2 1 Via Ok 3 2 1 Via Ok E 3 2 1 Via Adesso questo si congeva direttamente Diciamo che non abbiamo problemi nel far questo Ho sbaglio Non credo proprio di sbagliare Ok andiamo avanti E andiamo a fare direttamente La cosa che ci piace di più fare O meglio A non fare Per di fare niente Ok Via Via veloce Ok Via Ok perfetto Diciamo che Hoccin Stai fatto su Buono Meglio per noi Questo è un mostro Ovviamente L'avevo già notato Guardate Guardate regà Guardate regà Opli Upsi desi Upsi desi Ok 3 2 1 Via Veloce Ok Dai Nel periodo in cui manca Ok Ci può servire Fare questo Probabile Probabilissimo Probabilissimo Veloce adesso Veloce davvero Veloce davvero Ok Adesso avete Elettra metti Un nanosecondo Per far si Che Hoccin Venga qui E il più velocemente possibile Quindi Hoccin Vieni Oh mamma Non può venire Non può venire Cioè Stati dicendo Che questo è stato fatto apposto Per non poter venire Cioè Hoccin Abbiamo Qua Vabbè Quanto pare Vai Visto che stiamo Facciamo Facciamo Veloce veloce Dai Il nome della fate Il nome della vicinzia Il nome della pizza Ok Dai 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 veloce Dai Dai veloce Dai veloce Dai veloce Dai Dai veloce Dai Il nome della pizza Il nome della pizza Ma dov'è che poi L'avano a trasportare Che non possono andare I piccoli Ho sbaglio Non lo so Non l'ho notato Regà Posso dire che non l'ho notato No Non si può fare Cioè o meglio si può fare Ma eravamo qui Eravamo letteralmente qui Peccato per poco Con la strada Vabbè Pianata subito E si può effettivamente Fare l'altro sistema Però Bisogna prima andare Davanti a Hoccin Ma È abbastanza complesso Come cosa da fare È abbastanza complesso Cioè in pratica Io Devo ricominciarsi Vabbè in pratica Vi faccio vedere Il fatto buono Poi Nel prossimo episodio Vedete Prende appunto La cipolla viola E gli ultimi 30 secondi Di io che ho fatto robe E detto questo ragazzi Spero che avete apprezzato Spero di vedervi In un prossimo episodio E la descrizione E la campanella Eravamo letteralmente A un passo Da Aver preso La cipolla viola Ma è l'ultima sfida finale Quindi per l'appunto Livello 5 su 5 Anzi livello 6 su 5 Di Tandori E detto questo Ciao a tutti Ciao a tutti